I carabinieri della stazione di Chiaramonte Gulfio hanno arrestato ieri tre persone ritenute responsabili di abusi sessuali verso due ragazze all'epoca dei fatti minorenni. La vicenda ha avuto inizio nel febbraio del 2005 quando la madre dei ragazzi si era presentata presso la caserma dei carabinieri per denunciare gli abusi subiti dai suoi figli da parte del marito, del padrino di Cresima, della ragazza e del fratello di quest'ultimo negli anni compresi dal 2000 al 2004. Da quel momento era iniziata l'attività d'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Raguse che aveva permesso di appurare particolari agghiaccianti e che aveva inoltre portato all'arresto in custodia cautelare delle tre persone. Successivamente nel 2007 i tre erano stati condannati in quanto ritenuti responsabili del reato di abusi sessuali. Nei giorni scorsi invece la Cassazione ha rigettato il ricorso degli imputati confermando le pene inflitte dai giudici di primo e secondo grado. Ieri per tanti i militari dell'arma hanno rintracciato i tre soggetti e li hanno condotti presso il carcere di Raguse. Oltre alla pena detentiva, in particolare il pad dei ragazzi, ha perso anche la potestà genitoriale con l'esclusione dalla successione della persona offese e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.